Ultimamente le affermazioni dell'ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, lasciano sempre più perplessi e sorpresi sulla intempestività con cui lui fa le sue affermazioni. Oggi afferma che nei paesi civili le politiche e le legislature durano fino alla fine. Nei paesi civili le legislature durano fino alla fine se i cittadini hanno fiducia nei confronti di chi li governa. Le legislature durano fino alla fine se la politica è in grado di portare a termine quelle che sono le promesse che sono state fatte. In Italia non è così e di conseguenza dopo il 4 di dicembre qualcosa di importante è successo. I cittadini hanno detto alla politica che bisogna andare a votare il più velocemente possibile perché questa politica, questa classe dirigente, questo governo voluto fortemente da Giorgio Napolitano aveva totalmente fallito e aveva deluso gli italiani. E quindi le esternazioni del Presidente della Repubblica lasciano veramente il tempo che trovano. L'invito che noi facciamo a Giorgio Napolitano è quello di tornare a stare in silenzio come ha fatto in questo ultimo periodo e lasciare far sì che la politica e soprattutto chi ha voglia di dare retta ai cittadini e di portare a casa il voto e di andare al voto il più velocemente possibile possa lavorare, lavorare in fretta, lavorare bene e dare la possibilità ai cittadini italiani di esprimere la loro opinione.